ragazzi è una femmina tanti auguri si è saputo poi chi è il padre e piantala leggile questa favola ok andiamo tre due uno sono il dottor david jordan la nostra missione è intercettare un modulo di ricerca da marte 16 step per aggiustare una doccia non insegno mica in palestra è il primo modulo della storia a tornare dal pianeta abbiamo conferma visiva lo vedo può essere un enorme conquista per la scienza forza 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 la prima prova dell'esistenza di vita oltre la terra diminuisco l'ossigeno aumento l'anidride carbonica è bellissimo sei finalmente papà sarà una bella lotta per l'affidamento allora riportate il marziano sulla terra no lo teniamo qui per studiarlo al sicuro guardate quanto cresce in fretta ogni singola cellula è una cellula sia muscolare che nervosa tutto muscoli tutto cervello quanto è furbo quest'affare aiutatemi aiutatemi che cosa succede vado dentro no non ci vai non ci vai non ci vuoi fare c'è un uomo lì dentro apri il portello questa creatura ha spazzato via marte milioni di anni fa se adesso arriva sulla terra l'umanità sarà in pericolo uccidiamo quest'affare buonanotte luna buonanotte piuma buonanotte mucca che salti sulla luna buonanotte luce sei una grande fortuna qual è l'istinto primario di ogni forma vivente sopravvivere buonanotte stelle non abbiamo più contatti buonanotte aria impatto con l'atmosfera in 39 minuti non sopravvivremo al rientro quella cosa forse sì buonanotte suono che ogni notte varia il 2017 porterà in dono agli appassionati di sci-fi film particolarmente attesi come guardiani della galassia volume 2 alien covenant il remake americano di ghost in the shell blade runner 2049 e l'ottavo episodio della saga di star wars ancora senza titolo ufficiale noi di cinematografo film is now abbiamo quindi deciso di stilare una lista dei 30 film di fantascienza che più ci hanno intrigato entusiasmato fatto riflettere e discutere una lista che per forza di cose esclude tantissime altre pellicole meritevoli naturalmente ma che riteniamo possa essere un buono spunto per recuperare qualche piacevole visione e per una sana e pacifica discussione con gli appassionati del genere troverete il link all'intera classifica nella descrizione del video e invece io passo subito alla top 10 apre la classifica al decimo posto videodrome di david cronenberg poi essi vivono di john carpenter all'ottavo posto brasil di ter gilliam settimo posto ritorno al futuro di robert zemeckis al sesto posto alien di ridley scott quinto star wars di george lucas blade runner di ridley scott terzo posto metropolis di fritz lang secondo solaris di andrei tarkovsky e primo posto 2001 odyssey nello spazio di stanley kubrick aspetto nei commenti sotto la lista dei vostri film sci-fi preferiti per oggi è tutto noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perderlo ciao 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 ciao